Ciao a tutti, a volte l'elettronica gioca dei gusti scherzi e ho il sistema mio di registrazione digitale che è andato in tilt, ma avendo ancora un signore come questo che chiama sui teach A3440 non rinuncerò a registrare questo brano che spero sia di vostro gradimento, è una mia composizione, si chiama Coro Coccioro, vediamo se parto intanto, allora, Sus, Sync, io oppo, appyto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.